Si lavora per la bonifica della discarica di smesse località ex Pastorina con determina numero 1210 del 2 agosto 2019 pubblicata sull'albo pretorio del sito istituzionale del comune di Sulmona e sarà affidato il servizio consistente nella redazione delle valutazioni preliminari alla discarica di smessa per RSU ex Pastorina sita in via Vicenne. Si tratta dell'area adiacente all'ex discarica situata vicino all'impianto Recogese interessata a novembre da un incendio di origine dolosa ma il sito risulta inquinato da tempo. Da Palazzo San Francesco stanno ora lavorando su un progetto di bonifica un provvedimento che fa seguito alla conferenza di servizi che si è tenuta lo scorso mese di marzo con la Asla, Vezzano, Smuna, L'Aquila e l'Arta il distretto provinciale dell'Aquila indetta per l'esame dei risultati e i certificati di analisi condotte sui campioni d'acqua di falda superficiale sotterranea e per l'identificazione dell'iter da seguire per la bonifica messa in sicurezza permanente del sito. In quell'occasione fu stabilito che prima di procedere alla redazione del documento preliminare è necessario procedere all'elaborazione di una relazione esplicativa sulle eventuali attività effettuate dal 2013 ad oggi che confermi o meno alla luce dei nuovi rapporti di prova analitici trasmessi dalla Polizia Provinciale dell'Aquila la validità dell'analisi di rischio sanitario. La ditta affidataria potrà richiedere quindi per conto del Comune tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del servizio presso gli anticompetenti e entro 45 giorni dovrà consegnare le valutazioni preliminari e il primo passo per bonificare uno dei tanti siti inquinati che si trovano in città.